Il Centrosinistra cerca di far sentire la propria voce al Sud e lo fa con un incontro dal titolo Mezzogiorno non più contributi ma scelta strategica, che si è tenuto nella sede del quotidiano online moderati riformisti di Centrosinistra in via Medina. Nei programmi e negli intenti di insieme di MDP c'è l'idea concreta di ripartire dal Mezzogiorno per rilanciare il Paese. Noi pensiamo che alle prossime elezioni non ci debba essere il solito capitolo sul Mezzogiorno, cioè la scuola e il Mezzogiorno. Oggi proponiamo una cosa diversa e proponiamo che MDP ma soprattutto insieme il partito, il soggetto politico che si sta formando intorno a Pisapia, assuma come carattere centrale del programma il Mezzogiorno. Questa è la proposta che dovrebbe nascere oggi, la facciamo con Ciccio Ferrara che sarà uno dei vice coordinatori nazionali di Pisapia, di insieme e siamo contenti di farla qui da Napoli. Per far rinascere il Mezzogiorno bisogna rifar partire la ripresa economica. Il Sud è stato martoriato in questi ultimi anni e si è allargata sempre di più la distanza tra il Sud del Paese e il Nord e dal resto dell'Europa. C'è bisogno di investimenti pubblici, c'è bisogno che il Governo assuma come priorità il Mezzogiorno a partire da grandi infrastrutture che riguardano il territorio. La vicenda del Vesuvio, gli incendi e la devastazione del territorio dimostra quanto sia importante spendere fondi pubblici per rilanciare l'economia nel Mezzogiorno. Noi siamo qui a testimoniare una priorità per il Paese perché il Mezzogiorno è non la palla al piede del Paese ma il nostro Paese senza il Mezzogiorno non va da nessuna parte.